Ciao ragazzi, finalmente rieccomi a fare nuovamente un video non sparisco, perché ecco ho molte cose da fare dico faccio il video, faccio il video e poi non lo faccio mai allora, questo è un video risposta a Makeup Lover 73 mi sembra sì, ce l'ho fatta sono alcune domande 15 domande quindi è un video tag ho fatto questo rigirio per dire che è un video tag ah, non fate caso ai miei capelli me li sono lavati ieri con pantenne Ricci perfetti alla faccia dei Ricci sembra un leone appena uscito dalla babbia allora, iniziamo il tuo film preferito allora, il mio film preferito è Titanic la tua canzone preferita, Viva la Vida, dei Coldplay il gruppo musicale preferito, i Coldplay ultimamente però ho riscoperto anche un altro gruppo più che gruppo sono due cantanti russe due cantanti russe sono le tattoo non so se ricordate Not Gonna Get Us insomma quelle canzoni lì a che età hai cominciato a truccarti? 14 quando ho iniziato ad andare in città mi mettevo solo la matita quindi è un trucco, un leggero l'oggetto tecnologico di cui non puoi fare a meno faccio vedere il computer ne ho due addirittura anzi ne ho tre perché ho anche un minotipo non ci fate caso allora, l'oggetto tecnologico che ho comprato è un che usi poco la videocamera mio padre per il mio compleanno mi ha fatto la videocamera in HD ma purtroppo l'HD non è supportato dal computer e quindi la uso poco il regalo che vorresti? allora, il regalo che vorrei? boh, un po' di fortuna non lo so sinceramente un lavoro che qualcuno mi desse una dritta per trovare un lavoro la tua meta da sogno Parigi cioè, mi piace troppo il mio Parigi è comune non è che ho detto Maldive e varie cose però mi piace troppo hai animali? sì, ho un cane che vi faccio vedere come è cresciuta Kira e per tanto che non la vedete Kira! guardate com'è e poi ho brisciola al gatto e coniglio a Alex poi quello che ti piace fisicamente di te la bocca dicono che è una bella bocca e il colore degli occhi che sono belli non lo so sta a voi giudicami il cartone animato della tua infanzia Sailor Moon sei mai stata lasciata? sì vabbè diciamo che il mio primo amore amore che sono io che andavo dietro a lui mi ha lasciato per una sua ex fiamma però diciamo che sono durata un mese nemmeno in un mese ci siamo visti due volte quindi ero più piccolo ho 15 anni mare e montagna? domanda difficile perché io il mare ce l'ho qua e quindi lo posso vedere andarci tutti i giorni la montagna mi piace però non lo so mi mette tristezza non lo so quindi più mare sei felice? dà la domanda in questo momento sì poi vedremo in questi prossimi giorni cosa succederà un bacio ciao ciao ciao